postazioni era un'ora e mezza che mi stavo tenendo in canna agli insulti allora palmirozzo ci manda la sua cosa è lo sfondo di my hero academy vegeta muore beccati questo spoiler non giudico quelli che guardano gli anime qui solo roba da chat e da sigma mail scemi babbidi ah ti stai guardando xuderone ma è xuderone si è xuderone ok quindi ti svegli di mattina ti svegli di mattina e lavori da casa bella bella vita mi piace ma non hai una console sei povero mi fai schifo non fare mai più la sub al mio canale non ti voglio più vedere andiamo a vedere quest'altro anime niente signori non lo so che cosa è successo beh spiegatemi che cosa è successo che è la c'ho la c'ho la fanbase di mocha ah è io che faccio il pollicione ci sta va bene bella ci fotto la spada laser è un bel tocco bravo bravo tu invece no ragazzi uomo no ma raga ma che cazzo ma è una è un ma è una camera questo vive in un container c'è sto la mia ok ce so io gioca a full guys parte dall'otto buonissimo c'ha una marea di disastro qui in mezzo non tiene il conto di cui dove dovrebbe mettere poter mettere le mani e tutto perfetto 9 9 pieno aspetta 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 questo beve level up si guarda le mie stream beve coca cola ha una tastiera arcobaleno ha delle lucine alla stranger things però beccato c'ha il simbolo c'ha il simbolo della nike qui mi dispiace mi dispiace sono uomo adidas io non overpago 40 euro una felpa fatta da un cinese govot ti devo per forza dare uno lo so bella postazione ma quello ha fatto scendere a uno il voto guarda il maestro non voglio gente che guarda non voglio gente che ha un se hai un volante sulla postazione non voglio che guardi le mie stream sei bandito dalla mia stream apri the real marza adesso non vi voglio si formula 1 sai chi è che sai come la guardate la formula 1 voi così la guardate la formula 1 ah il joystick della playstation 5 è azzurro quindi significa e l'hai anche pagato 10 euro in più rispetto al joystick base perché io lo so ho visto già che c'è quello rosa che costa 15 euro in più quindi l'hai anche pagato di più perché ti piace e quindi evidentemente ti piace come colore l'azzurro ok la postazione tua è 0 voto 0 ah si certo sdrago al tartufo si si sdrago al tartufo aspetta windows postation 4k hdmi wallpaper si si yes qui che ci abbiamo allora suona la pianola gioca scacchi mixa musica adora la roba legge fumetti è ordinato ma tu come cazzo ci sei cascato su tumblr come ti ci sei ritrovato ma frate ma questo ma come c'è cascata su tumblr cioè onestamente parlando non non lo so bella bella cioè mi piace è molto molto ordinata mi piace mi rilasserebbe stare qui probabilmente ce l'avrei messa una lucina colorata questa è un aborto cioè questa è una merda c'ha una una cosa che se gli dai una botta si sfonda probabilmente comprata l'ikea da 30 euro perché non c'hai i sordi per comprarne una più grossa questo è uno shaker level up 9 postazione da 9 bravo ma c'è qualcosa oh 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 voglio roba ciotta voglio quello costa questo vabbè questo almeno dai almeno 2000 euro costa 1500 1500 minimo frate dai fan di star wars che pezzo di quarta i sordi che c'ha mica ma mai giftato chi è questo gasby gasby mai sentite 5 sub da gasby scrivania quadrata scrivania con angolo queste me eccitano infatti la usa bene la sfrutta bene utilizza la curvatura del monitor per metterla angolo mettendo qui un monitor e qui lo schermo peccato per star wars no mi sembrava del milan non è del milan te posso da 9 e mezzo se no se no prendevi uno allora pc pc niente male mi piace la pulizia mi piacciono i monitor come sono messi mi eccita che questo è più piccolo ma è un po' più alto logitech c920 stampante in camera sei ricco neon neon del pianeta i neon costano questo c'hai sordi questo potrebbe essere uno che se ti voglia dici una roba bella ti gifta 5 sub quindi gli si dà 8 chi è sto stronzo ciao tumblr intanto facciamo un applauso un applauso per due motivi il primo motivo è che questo ragazzo non ha ancora compiuto l'insano gesto con la corda perché ti fa juventus il secondo motivo è che ha il coraggio di continuare a tifare una squadra che ogni 5 anni fa un illecito sportivo sei grande allora che cos'hai qui tazza juventus targato juventus stai guardando la mia stream vomitevole io voglio un bar voglio vedere che cosa hai qui perché non riesco a capire bene che cos'hai lì nascosto ma che cazzo ma hai degli insetti dentro al vetro un'altra targhetta juventus un'altra targhetta juventus un'altra volta è tutto targato juventus questo stronzo allora questa mi dà un po' l'idea capito mi devo andare a fare una birra in un ah no scusate gioca a warzone non la commento oh questa è una signor postazione certo fa tutto la luce certo c'è il volante certo ci stanno i pedali però ha un bel microfono mazza frate ma sta luce è incredibile ma linka me sta luce su instagram te prego ma è una manata sì ma poi quanta cazzo deluce fa mi piace questa sì se meritano otto due monitor monitor uniti no sto monitor sta dietro non ha messi non ha messo i due bordi dei monitor uniti ma ha messo un monitor che spawna dietro e scusa e tu quando sei seduto figlio di una puttana non vedi tutto il monitor a sinistra pezzo uno no anzi ti do ti posso no ti abbasso il voto da 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 minimo e c'hai la switch tre questo sta a giocare a tokyo quindi già c'ha rispetto c'ha un bel un bel microfono delle cuffie usa il poggia usa il braccio del microfono per tenere le cuffie lo faccio anche io bravo oh ma ragazzi ma c'hanno tutti il volante è una cosa allucinante cioè rica tu te giri te giri vedi in volante ogni tre postazioni questo due video mamma mia c'ho paura è italiano se sta a guardare questa questa si non è neanche un video fake questo so io che mi sto a guardare la 100 tiri del zav jackson non ci posso credere è per caso un la roccia santino e io vedo una roba che devo fa queste sarebbero minimo minimo cioè ti dico 10 perché tanto se ti dico 50 100 non le vedo cioè si 10 minimo the sub io vorrei vederne una bella una proprio bella cioè in realtà una bella l'abbiamo porco dio zia chi dà le quando deve fa ma ragazzi ma che sto a vedere ma questo è vabbè fake fratelli i robbi di cemento per tenere la tastiera il mouse ma che è ma poi questo è messo pure un po non lo so spero sia fake no questa non è fake questa sicuro dalla qualità non è mai fake questa questa è real oggi famo gli itas contiamo i soldi delle persone questo è bir frate questi sono 2000 allora questi sono 2000 euro di schermo un altro schermo curvo 4 piotte minimo un altro schermo utilizzato però per in verticale quindi sei pure stronzo ma ma vedendo che tipo di immagini usi potresti essere un grafico pc con waifu dentro boom immagine di di jinx bravissimo mini mixer un cecchino di soft air costa tipo 4 bombolozza crema catalana svizzera più i mirini e poi te rovini come? avrà te mei coglioni buongiornissimo e c'ha pure la roba di taci questa questa penso che possa ottenere il il massimo dei voti insieme a postazione uomo uomo biliardo bello mazza che bello un altro video non dire sì sì ecco questo signori vive letteralmente nello studio dove vorrei sta io lo posso comprare ti posso comprare lo studio per favore ah sì io letteralmente se io mi devo pensare a come io potrei avere uno studio sarebbe uguale a questo madre è tutto legno sì guarda la postazione come bello mamma mia questa scrivania tutta sagumata qui mi fa mamma mia frate ma quante pippe ti tiri al giorno zio vera e poi dall'altra parte è sempre full legno tutta musica signore e signori sono finite le postazioni manage guarda la postazioni arqué io non estoy a